Siamo tornati un attimo indietro per la storia di Sasuke Uchika Ci servirà più avanti per la battaglia contro il Tecacode Siamo tornati un attimo 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 Un attimo Siamo tornati un attimo Siamo tornati un attimo Siamo tornati Siamo tornati un attimo Siamo tornati un attimo Siamo tornati Siamo tornati un attimo Siamo tornati Siamo tornati un attimo Siamo tornati un attimo Siamo tornati Siamo tornati un attimo Siamo tornati Siamo tornati un attimo 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 Quanto sei forte, Sasuke? Porca troia Minchia, il risultato di battaglia S, ragazzi Quanto sei? Quanto sei? Quanto sei? Quanto sei Certo, che sei Che sei Che sei Quanto sei Grazie per la visione. Io non conosco nulla, non conosco tutto, non conosco tutto. Non non conosco così, tu è ancora un figlio. Non conosco, ora non conosco un figlio, non conosco un figlio. Nel punto non conosco, ma non conosco. Che è la prima cosa? Che cosa succede e cosa faccia? Sbagliare, pensare e rispondere, e bambino di essere. Ti sentirei che sia di essere la sua. per me non è vero bene ti aiuta andate dove dove tu anche tu conosciuto Grazie a tutti i nostri spettatori.